L'assessore al turismo del comune di San Vitolo Capo, Antonino Ciulla, motiva così la sua scelta di dimettersi e abbandonare il tavolo tecnico del distretto in qualità di rappresentante del comune dell'agroericino. E non solo, c'è molto di più dietro la decisione ponderata e sofferta dell'amministrazione sanvitese. I concetti di rete e di azione partecipata, spiega Ciulla, trovano ancora a nostro malgrado declinazioni molto diverse tra le diverse realtà coinvolte. E poi addirittura parla del distretto come di un ostacolo alla corretta realizzazione delle iniziative programmate. Ma ascoltiamo le sue parole nell'intervista che segue. Abbiamo lavorato per due anni cercando di portare a compimento quello che era un progetto di destinazione che tutti conoscete e che è stato avviato con la sottoscrizione del 6 giugno 2019 da parte di una decina di sindaci del nostro territorio. Abbiamo più volte, come dire, espresso ovviamente il nostro favore verso iniziative che potessero proporre finalmente il nostro territorio come una destinazione unica al mercato turistico nazionale, europeo, mondiale. Siamo fermamente convinti che gli obiettivi iniziali di questo progetto fossero quelli di cui davvero la Sicilia occidentale e la provincia di Trapani avesse bisogno. Crediamo che in questo momento il Comune di San Vitolo Capo e le sue risorse ma anche le proprie competenze debbano comunque guardare iniziative che in primis possano favorire e possano essere di aiuto ai nostri operatori turistici che ovviamente vengono anche loro da un periodo pandemico che li ha particolarmente provati. Quindi una nuova razionalizzazione delle nostre risorse sia umane che economiche che ci consenta, pur rimanendo all'interno della fondazione, di guardare iniziative di marketing territoriale, di programmazione che siano sicuramente più consone alle esigenze di questo territorio.